Sì Eleonora, buongiorno a tutti voi. Purtroppo il bilancio si aggrava, le speranze muoiono oggi con il ritrovamento di pochi minuti fa di Vincenzo Garzillo di 68 anni, operaio di Napoli, stato ritrovato dai vigili del fuoco appunto, l'ufficialità è arrivata pochi minuti fa. Ma purtroppo quindi il bilancio complessivo di questa sciagura enorme, chiedo all'operatore di inquadrare, di entrare dentro la centrale, è di sette persone. Ma purtroppo le notizie non buone continuano perché dobbiamo ricordare che ci sono al momento ancora quattro feriti ricoverati negli ospedali di Pisa, Cesena, Parma e Bologna. Due di queste persone, preghiamo per loro, sarebbero in gravissime condizioni. Che cosa ha determinato la sciagura? Queste persone sono morte, secondo il procuratore, e sono stati visionati da medici, per il momento ancora non si parla di autopsia, da traumi dovuti allo scoppio, all'incendio, al crollo, molto probabilmente anche all'annigamento. Queste le cause della morte, che è avvenuta a seguito dell'esplosione che c'è stata all'interno di questa centrale. Quello che abbiamo cercato di capire in questi giorni e che si cercherà di capire è che cos'è avvenuto. Perché l'alternatore, posto ai piani tra il meno 9 e il meno 10, ha creato dei problemi e c'è stata questa esplosione. Nei giorni passati abbiamo sentito la testimonianza dei Vigili del Fuoco parlare di muri di cemento armato, grossi due metri, che sono stati spazzati via. Il crollo è avvenuto appunto tra i piani meno 9 e meno 10. I Vigili del Fuoco sono riusciti a individuare questi corpi, seguendo un'ipotesi, ne hanno parlato ieri in conferenza stampa, cercando di capire, guardando la mappa, quali potevano essere le vie di fuga. E lì erano ritrovati i corpi, ieri, i primi tre. Molto probabilmente l'ultima persona che è stata ritrovata era sotto le macerie. E per i Vigili del Fuoco è stato davvero un lavoro molto complicato, perché l'acqua, a parte il freddo, era di visibilità veramente molto scarsa. E hanno lavorato a circa 7 metri di profondità con i locali allagati. Ora che cosa è successo? Che molti autobotti sono arrivati qui, hanno tirato via con le pompe quest'acqua, ma continua ad esserci acqua. Perché c'è una falda al piano meno 10, che prima quest'acqua non arrivava perché c'erano delle pompe idrovere poste al piano meno 10. E invece queste pompe, dal momento in cui c'è stato il crollo e l'esplosione, hanno smesso di lavorare. Per cui l'acqua torbida è stata asportata con dei camion cisterna, con delle pompe, e i Vigili del Fuoco sono riusciti ad avere visibilità. E molto probabilmente questo ha determinato il ritrovamento dei quattro corpi. Ma ci sono idrocarburi, ci sono diversi materiali, e quindi comunque l'acqua in questo momento sta tornando ad essere limpida. La priorità fino adesso era quella di trovare, e naturalmente c'erano le speranze di trovare ancora qualcuno in vita, però purtroppo, vi abbiamo dato questa notizia, i morti salgono a 7. Allora, ora, da questo momento in poi sicuramente si cercherà di capire che cosa è successo. Noi ieri in conferenza stampa abbiamo chiesto, l'esplosione, ripeto, è avvenuta tra il piano meno 9 e meno 10, perché era proprio lì c'era questo alternatore. Ma da quanto riusciamo in modo profano a cercare di capire questa vicenda, un alternatore fatto di rame, di olio, di cuscinetti. Che cosa ha determinato questa esplosione che ha spazzato via un solaio in cemento armato? È creando uno scoppio per cui poi queste persone hanno perso la vita. Persone che erano venuti qui per lavoro, che lavoravano da tantissimo tempo, l'ultima persona aveva 68 anni, l'ultima persona ritrovata. E ripetiamo, Eleonora, ci sono ancora quattro feriti di cui due sono in condizioni gravi. Le persone che sono in condizioni gravi in questo momento sono ricoverate dall'ospedale di Pisa e di Bologna. Certo, la procura di Bologna cercherà con una super perizia, incaricando molto probabilmente anche persone. Purtroppo ultima vittima. Sì, allora sono stati trovati tutti vicino la turbina. Hanno operato più o meno in un'area di 100 metri quadri, con le stanze appunto allagate, considerate che sono degli stanzoni enormi, di 30 per 40 metri a piano, alti più o meno 3-4 metri. L'altezza ancora non si riesce a stabilire bene, perché sono reparti ancora allagati. I vigili del fuoco hanno, ripeto, costruito un'ipotesi, su quell'ipotesi dove potevano essere, in base anche alle testimonianze di chi è riuscito a scappare via, a trovarli in una via di fuga. Cioè, molto probabilmente, sicuramente le indagini lo chiariranno, queste persone hanno avvertito qualcosa, avranno sentito un rumore, avranno visto del fuoco, poi molto probabilmente c'è il fumo, e quindi hanno iniziato a cercare di mettersi in salvo. Qualcuno ce l'ha fatto, ricordiamo che erano 15 le persone in quel momento al piano meno 9, che stavano appunto lavorando, mettendo in, diciamo, lavorando per rigenerare una turbina. C'erano dei lavori, come potete vedere, che erano stati programmati qui, proprio per quanto riguarda, diciamo, un upgrade di questa turbina. Sono lavori che comunque vengono fatti periodicamente, proprio per aggiornare i sistemi. Qualcosa non ha funzionato. Ed è su questo che ora cercheranno di, le varie indagini, di capire che cosa ha scaturito questa esplosione. Perché, ripetiamo, un alternatore, ora in studio c'è pure Valerio Rossi, il Berghini, scusate, ce lo confermerà. Però è difficile questo. Molto probabilmente sono state le prove, la carica di corrente elettrica. Insomma, per il momento siamo nelle ipotesi, si cercherà di capire che cosa ha innescato questa esplosione, che cosa ha scaturito appunto la tragedia. Eleonora. Sì, allora, se con la regia riusciamo a mettere la grafica che avevamo messo ieri così, cerchiamo anche di capire, di comprendere non solo quello che può essere successo, ma soprattutto rispetto al ritrovamento di questo ultimo corpo, come hanno probabilmente cercato di mettersi in salvo, di scappare rispetto all'esplosione e rispetto a dove si trovavano. Il quadro indiziario è tutto logico e coerente, perché era stato segnalato che addirittura dall'esterno si avvertiva un odore molto intenso e molto acre. Quindi quelli erano i segni premonitori di qualche cosa che stava accadendo, di pericoloso, di potenzialmente letale e io immagino gli operai che erano all'interno dell'ambiente avranno sentito questo odore ancora molto più intenso e la reazione ovviamente è stata di cercare di mettersi in salvo. Quindi il fatto che l'abbiano ritrovati lungo la via di fuga è perfettamente logico. Per quanto riguarda diceva giustamente Vittorio in trocaso il fatto che dei muri di cemento armato che sono stati concepiti per resistere ad altissime pressioni perché la siamo sotto terra ma siamo a ridosso di un lago che con tutta la pressione dell'acqua spinge contro queste strutture quindi sono mura molto solide che sono state sì però sono state divelte anche questo non è così sorprendente perché dobbiamo immaginare come è avvenuta questa esplosione se ci fate un attimo mente locale che cosa succede quando c'è un'esplosione può essere di due tipi se è libera nell'aria allora si diffonde si risperde e l'energia tende a dissiparsi ma se è confinata all'interno di una camera di scoppio allora è devastante perché l'espansione dei gas non trova sfogo verso l'esterno e può esercitare una pressione un carico sulle pareti tanto da sfondarle le bombe sono concepite così si potrebbe buttare l'esplosivo e invece no viene messo all'interno di un guscio metallico per moltiplicare la potenza dello scoppio quindi ecco che cosa è successo che l'esplosione è stata particolarmente violenta e catastrofica perché era all'interno di uno spazio circoscritto lì poi c'era bisogna anche chiarirsi sui termini altrimenti ovviamente il pubblico va in confusione si parla di trasformatore si parla di alternatore lì c'è scritto generatore nella grafica stiamo alludendo a che cosa ora non sappiamo qual è il componente elettrico però nella catena di trasformazione dell'energia di rotazione delle pale della turbina quella che ho fatto vedere ieri in energia elettrica ovviamente c'è un sistema elettrico in questa conversione se come ha detto giustamente Vittorio il sistema va in sovraccarico perché va in sovraccarico questo non si sa esattamente può essere perché il collaud è stato fatto male ancora non era pronto a ricevere tutta la potenza che era in grado di generare la turbina questa è una possibilità la turbina è andata in pezzi e qualche pezzo ha potuto lesionare il componente elettrico anche questo è un'altra ipotesi però comunque l'imputato rimane quell'elemento lì che vediamo un po' per terra il generatore alias alternatore quello lì che anche e nella grafica ti ricordi l'abbiamo commentato ieri esplosione della turbina evidentemente non poteva essere la turbina ad essere esplosa perché la turbina è un componente meccanico e non esplode la turbina come non può esplodere una chiave inglese però la turbina potrebbe essere l'innesco in una centrale un'esplosione del genere le cause sono un mistero anche per noi esperti parla Giuseppe del giudice docente di costituzioni idrauliche dunque ha parlato scusa un secondo Valeria perché altrimenti non riusciamo a mandare nemmeno i filmati ha parlato con noi la DDN il Green Power perché qui ieri si è parlato di subappalti qui tutti i giornali hanno parlato di appalti subappalti e lui dice siccome c'è una polemica in corso su questo dice nessun allarme prima dell'incidente i sindacati ci elogiavano questo viene riportato su Repubblica pagina 15 allora sentiamo la nostra intervista non c'è nessuna catena di subappalti non esiste una catena di subappalti ci troviamo di fronte a delle aziende che all'interno della loro libertà di decidere come organizzarsi per fare il lavoro nelle migliori situazioni trattandosi di competenze altissime hanno deciso in autonomia a chi rivolgersi non è una catena di subappalti ecco lo dico perché noi stiamo lavorando con la priorità di stare vicino alle famiglie di gestire questo dolore di ricercare i dispersi e leggere tutta una serie di cose che circolano è un qualcosa che credo non meritiamo questo tipo di affermazioni che vengono fatte quindi chiedo grande rispetto per tutti coloro che stanno qui lavorando incestantemente da due giorni con queste priorità ecco per cui su questo ovviamente l'azienda l'azienda risponde ieri si è parlato di subappalti ne hanno parlato tutti i giornali sindacati si sono lamentati di aver denunciato da due anni dei disservizi ma la D dice no in realtà non è così ovviamente ovviamente non ci penseremo certo noi nei giornali nelle indagini ci penseranno i giudici a capire che cosa è successo invece Valerio vuole dissentire da questa dichiarazione non è vero che non abbiamo idea anzi ce ne sono troppe idee rispetto a quanto è successo giusto? sì il titolo che hai letto magari è una sintesi giornalistica e quindi non corrisponde al pensiero dell'esperto che è stato intervistato che ha detto noi non abbiamo idea di quello che possa essere accaduto io direi noi almeno io ho varie idee possibili forse troppe rispetto a quello che può essere accaduto perché sicuramente l'esplosione è stata prodotta dal componente ormai è accertato dalla componente elettrica diciamo non da quella meccanica detto questo però che cosa possa aver innescato il processo che ha portato all'esplosione ci possono essere tante cause possibili e come dicevo può essere stato un guasto meccanico della turbina che ha lesionato fisicamente il quadro elettrico il componente elettrico un sovraccarico di corrente una mancanza che posso dire un uso di materiali che non erano ottimali per la funzione a cui erano adibiti oppure magari un errore umano ci sono tante ipotesi possibili e tutte quante giustificano un esito così catastrofico io vorrei dire che di questa tragedia mi colpisce il fatto che prima di tutto viene a stretta sequenza con la tragedia di Brandizzo dove quei poveri tra l'altro ragazzo operai delle ferrovie sono rimasti appunto schiacciati dal treno viene dopo il crollo dell'Esse Lunga a Firenze e mi viene in mente una cosa che non so chi la ricorda ma che sta purtroppo nella storia del nostro paese che è la tragedia di Marsinelle dove morirono più che 200 italiani che erano immigrati per stare nelle miniere del Belgio allora io mi domando ma è possibile che in 70 anni noi non abbiamo ancora saputo elaborare un sistema di protezione e di garanzia nei confronti di chi va a lavorare in questi posti sottoterra nei posti pericolosi devo dire il governo ha fatto una cosa ben fatta secondo me perché ha stabilito il principio della pagella delle aziende adesso se un'azienda ha un incidente grave è una specie di principio di patente a punti applicato alle aziende uno dei voti diciamo che si danno ai protocolli di sicurezza delle aziende molto gravi secondo me va bene Vittorio fra un po' ritorno da te grazie intanto